Come liberarti dal pensiero del tuo ex? Se vuoi imparare a liberarti dal pensiero del tuo ex che ti attanaglia la mente, che ti prende la mente, devi intanto pensare a te stessa, dare priorità alla tua vita, dare priorità ai tuoi sogni, dare priorità alla tua energia, scollegarti dalle emozioni negative e darti emozioni positive perché il tuo ex ti tiene agganciato al livello del pensiero perché ti mangia merda. E poi creare un ancoraggio emozionale tra te e il pensiero del tuo ex. Cioè ogni volta che pensi al tuo ex devi creare un ancoraggio emozionale per cui dal cuore deve sorgerti spontanea la parola VAI FANCOLO! E te lo togli dai cugli.